Le scoglieri a protezione del litorale non risolverebbero il problema dell'erosione e del ripascimento ed eturperebbero la spiaggia con danno per l'immagine turistica di Sant'Agata. A bocciare la proposta della minoranza consigliare santagatese è Enzo Bontempo, dirigente di Lega Ambiente, che definisce la proposta suicida e tipica di chi non ha compreso la dinamica di formazione delle spiagge e come difendere i litorali. Condanna anche per la scelta di ricostruire il lungomare nello stesso identico punto dove è crollato, praticamente in acqua, sfidando nuovamente il mare. Per buon tempo sarebbe stato più sensato indietreggiare di alcuni metri il tracciato, così da non costruire un muro riflettente e consentire la riformazione della spiaggia. E ne spiega anche le motivazioni. L'erosione a Sant'Agata è causata dalla diga foranea del porto, che ha bloccato il trasporto di sabbia verso Levante. A Ponente, infatti, si è formato un grosso accumulo. Questo materiale è venuto a mancare dinanzi al centro abitato, dove la spiaggia è scomparsa. C'è di più. Le barriere frangiflutti non favoriscono la ricostruzione, perché queste opere, piuttosto, bloccano il trasporto di sabbia. Al momento, infatti, non esiste flusso di sabbia in movimento, bloccata dal braccio portuale, quindi le barriere sarebbero inutili e sposterebbero solo il problema verso est, nella zona sottostante la Villa Falcone Borsellino. Secondo Buontempo, la soluzione è quella di rimettere in movimento la sabbia bloccata dalla diga foranea, così come affermano anche gli studi commissionati e già agli atti del Comune. L'operazione sarebbe fattibile con un bypass, selezionando accuratamente il materiale immesso nella condotta, oppure, più semplicemente, caricando su camion la sabbia e riversandola lì dove manca. Occorre di fatto costruire un'adeguata profondità di spiaggia di fronte all'abitato, per impedirne la riflessione. Eventuali opere di protezione dei versamenti, per evitarne la dispersione, si possono valutare solo oltre la Villa Falcone Borsellino, in modo che l'inevitabile erosione innescata sotto flutto interessi una spiaggia morta, molto profonda, dove non ci sono infrastrutture a rischio. Parla anche di costi Buontempo, valutando che ricostruire la spiaggia di fronte all'abitato, utilizzando la sabbia già in possesso del Comune, non costerebbe più degli investimenti previsti per realizzare interventi con barriere frangi-flutti, paralleli o perpendicolari alla linea di costa, le quali, peraltro, sposterebbero solamente l'erosione più a est ed obbligherebbero il Comune ad eseguire nuovi interventi particolarmente costosi. Il dirigente di Lega Ambiente non trascura nemmeno l'impatto dei conglomerati cementizi sul paesaggio del centro tirrenico, a danno dell'economia turistica e della libera fruibilità della spiaggia.